Benvenuti alla rassegna stampa del mattino oggi, giovedì 26 novembre 2020 e questo è il canale 17 di Fano TV sul digitale terrestre. Ci sono i giornali, tra poco li vedremo insieme, adesso il santo del giorno con il cartello che ci indica il nome di San Leonardo da Porto Maurizio. Il sole sorgerà le 7.20 e tramonterà le 16.36. Il bollettino della protezione civile delle Marche, oggi cielo sereno o poco nuvoloso, attenzione alle nebbie durante le ore notturne. Per la giornata di venerdì ancora cielo sereno o poco nuvoloso, giornata di sabato identica con temperature lieve aumento, in particolare quelle della notte. Poi per i prossimi giorni, quindi domenica ci sarà un indebolimento del tempo e quindi un peggioramento con la giornata di martedì che sarà diciamo migliore, quindi domenica e l'ultima di tempo ancora, sarà tempo perturbato. Allora, l'addio ieri a Diego Armando Maradona, anche il quotidiano delle Marche, il Corriere Adriatico in tutte le edizioni pubblica una fotonotizia del campione morto in Argentina, la morte di Maradona, anche le Marche piangono Diego, questo è la fotonotizia. Poi di missioni accelerate si parte, percorso protetto per i pazienti light a Marche Nord, nuovi casi positivi, light leggeri, quelli che hanno pochi sintomi, che stanno poco male, nuovi casi positivi all'ospedale Santa Croce, nelle Marche crescono i ricoveri, più 28, ieri altri 10 morti. A Bolognola, Bolognola anzi, è l'unico comune covid free, non l'ha mai, anche se sono pochi, ma nessun abitante ha mai preso il covid in questi mesi, quindi è l'unico delle Marche che è rimasto ancora libero dal covid. Trovato morto in zona mare davanti ad un hotel a Pesaro, lo vedremo tra poco, poi posta foto dei ladri, chi può mi aiuti a rintracciarli e sempre da Pesaro, nipote molesta, finisce a processo lo zio acquisito. Poi qui di spalla invece la guida Michelin ha decretato gli chef e i ristoranti migliori d'Italia, nelle Marche cambia poco, tutto resta così come l'anno scorso, come in gran parte d'Italia. Tra l'altro i ristoratori sono chiusi in questo momento per la seconda ondata della pandemia, per questo la nuova guida Michelin 2021 è un segno di speranza per il futuro che verrà, cioè quando si tornerà a mangiare al ristorante. Per le Marche 4 sono le conferme, le vedremo tra pochissimo. Intanto qui di taglio basso 300 metri di ciclabile costeranno quasi un milione, il nuovo tratto Vismara-Torraccia è oneroso ma è fondamentale per completare la rete. Il resto del Carlino, contagi nel reparto di medicina, scatta l'allarme al Santa Croce di Fano, almeno 8 i casi tra operatori e pazienti, altri casi sono da accertare. A centro pagina invece la musica senza confini, bambini cantano nella lingua dei segni con la compagna sorda. Mentre qui in alto Palazzo Perticari smontata la gru e il corso respira, poi accordo fatto con i laboratori tamponi, si cerca adesso la svolta, i tamponi abbiamo visto il numero è troppo basso ma ci sono accordi adesso con le cliniche private, con i laboratori privati. Partita la corsa ai saturimetri invece quelli del Comune di Pesaro, l'iniziativa per chi ha più di 65 anni, il giornale pubblica come fare per ottenere questi saturimetri. Poi la spaccata da poche, la rabbia di Iuri, furto ripreso dalle telecamere in Viale Trieste e poi a 46 anni stroncato da un overdose era appena uscito dal carcere. Di taglio basso il basket VL a Bologna il 30 dicembre per il recupero, assemblea di Lega, il campionato dicono non si ferma con la Virtus in campo alle 18.15. Enogastronomia, Guida Michelin conferma per il nostrano, ribadita la stella al locale di Stefano Ciotti, ma le marche non fanno alcun balzo in avanti. E allora andiamo a vedere, prima di entrare nel discorso del Covid, andiamo a vedere queste due pagine che i giornali dedicano giustamente alla Guida Michelin e ai risultati per questa edizione. A Guida Michelin 2021 gli chef stellati delle marche sono al primo posto Mauro Uliassi che ha il suo ristorante a Senigallia e poi c'è abbiamo Moreno Cedroni della Madonia del Pescatore Marzocca di Senigallia, non è al secondo posto, io sto elencando i quattro delle marche perché al secondo posto abbiamo Piazza Duomo, Adalba, Cuneo, poi altri ristoranti ancora. Però nelle marche, come dicevo, c'è Moreno Cedroni che ha due stelle rispetto a Dugliassi che ne ha tre, Cedroni sempre a Senigallia, Marzocca di Senigallia, alla Madonnina del Pescatore, poi una stella per Stefano Ciotti del Nostrano di Pesaro, come abbiamo detto, e Enrico Recanati che gestisce l'Andrina a Loreto. L'edizione 2021 non delude, i moschettieri delle marche confermano le loro meritate stelle. Questo invece il resto del Carlino, Stella Michelin in ombra, Pesaro, Senigallia e poi il nulla. Secondo la Guida sono solo quattro in regione i locali degni del riconoscimento. Uliassi, Madonnina del Pescatore, Nostrano di Andreina, troppo poco, dice e scrive l'esperto Davide Eusebi sul giornale di questa mattina. Sotto invece, sempre su questa pagina del Carlino da Fano, cari politici, un ristoratore che dice cari politici venite a sbucciare le verdure in cucina e poi capirete, è Flavio Cerioni del ristorante La Lanterna di Fano che scrive stiamo perdendo la dignità anche nei confronti dei nostri nipoti. Dice il ristoratore è un lavoro stupendo ma stiamo per precipitare e chi amministra non ci comprende. Per questo vorrei che un politico un giorno venisse a trovarmi in cucina qui nel ristorante con il coraggio e la voglia di indossare in tutti i sensi la giacca del cuoco. Allora, pandemia, calano i ricoveri, i cambi di colore. E' importante questo, cari telespettatori, perché sono giorni, domani c'è il rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità, quindi il Governo potrebbe decidere se cambiare la collocazione di alcune regioni, tra cui la nostra, tra cui le Marche, che potrebbe insieme all'Emilia Romagna e l'Umbria passare da arancione a gialla. Tutto dipenderà da questo rapporto. Intanto la seconda ondata sta calando, quasi tutti gli indici migliorano, stiamo parlando a livello nazionale, non solo a livello marchigiano. Per il secondo giorno consecutivo sono in calo anche i pazienti ricoverati con sintomi. Sul tampone, sui tamponi o meglio su chi passerà il Natale all'estero è previsto il tampone e poi il coprifuoco che è allungato ma è lite sulle regole. L'intesa sul prossimo DPCM non è stata ancora raggiunta, come abbiamo detto. Tutto rinviato a oggi, tra oggi e domani, gli spostamenti saranno vietati anche tra le regioni gialle. Poi il Ministro Boccia dice se apriamo tutto adesso ci aspetta un febbraio con molti morti. Non ci sarà nessuna deroga, chi rifiuterà il prelievo sarà messo in quarantena. E qua in questo articolo si cerca di fare un po' il punto, di anticipare un po' quelle che potrebbero essere le decisioni appunto del Governo. Intanto sulla messa della vigilia che rischia di saltare, il Premier Giuseppe Conte martedì sera sulla 7 ha affermato al momento il coprifuoco alle 22 vale anche per la messa della vigilia. La celebrazione di mezzanotte, uno dei riti più attesi della comunità cattolica, rischia di saltare. Ora qui chiaramente a chi ci rimette sono i cattolici, sono quelli che ci vanno perché ci credono e che quindi non tanto per tradizione ma perché credono in quello che fanno. Però mentre ieri ero convinto nel sostenere che la messa andrebbe invece garantita a queste persone, quindi ai cattolici, a noi cattolici, oggi sono un po' di parere diverso. Perché ieri ci ho pensato un attimo e mi sono immaginato i sagrati delle chiese con tanta gente che pur di uscire di casa per qualche ora diventa super cattolico, super credente, super fedele. Quindi magari con una sigaretta accesa tanto per passare un po' di tempo in attesa che finisca la messa e poi si debba, che poi si possa tornare a casa. Insomma giusto per l'ora d'aria. Ecco quindi allora a questo punto forse è il caso di rinunciare. Ce la guardiamo noi cattolici in televisione e per il resto gli altri si fumeranno la sigaretta sul terrazzo di casa e così non contagiamo e che non contagiano nessuno. Bolognola invece andiamo a vedere l'ultimo Covid free delle Marche. Bolognola dove c'è la stazione sciistica, tra l'altro dove c'è l'impianto, il virus non sale a quota mille, il borgo montano del Maceratese resta l'unico comune senza mai casi positivi tra i residenti. Altri qui 14 piccoli centri dell'entroterra guariti dal contagio. L'Anconetano però, la zona dell'Anconetano, non ha isole praticamente immune. Quindi lì tutti i comuni, anche il più piccolo, ha comunque avuto un caso, almeno un caso positivo. Sulle dimissioni accelerate, definito il protocollo, ora si avvia il percorso. riguarderà i pazienti Covid meno gravi per allentare la pressione sul pronto soccorso. Marche Nord istituisce anche la figura del case manager per la gestione dell'assistenza. Adesso poi il Corriere, per chi ha voglia, ci spiegherà che cos'è questo case manager. Perché in italiano forse era difficile. Focolaio al Santa Croce, no Covid, questo è il terzo caso. Invece questa è una notizia che preoccupa a Fano, questo nuovo focolaio di cui già si era parlato nei giorni scorsi. Un focolaio di coronavirus che si registra all'interno dell'ospedale Santa Croce di Fano, che è l'ospedale però, attenzione, no Covid, quindi dovrebbe essere pulito, come si dice, no? In questi casi. Perché in provincia c'è il San Salvatore, che è l'ospedale dedicato all'accoglienza e al Covid. L'ospedale di Fano in teoria dovrebbe essere appunto pulito. Non è così perché si è sviluppato nel reparto di medicina, coinvolgendo diverse persone risultate positive. La direzione di Marche Nord ieri ha mantenuto uno stretto riservo sulla vicenda. Comunque si è preso di una riunione di urgenza nel tardo pomeriggio nell'ospedale di Fano del Comitato Infezione Ospedaliera, a cui ha partecipato anche il direttore dell'Unità Operativa Complessa Gabriele Frausini, che vedete in questa fotografia, per gestire al meglio l'emergenza al fine di mettere in sicurezza il reparto e riservare il trattamento più efficace ai soggetti positivi. Poi l'articolo continua e lo troverete con tutti i dettagli sulla pagina del Corriere Adriatico in Edicola Oggi. Allora, terapie intensive sono più affollate, titola ancora il Corriere, si attende la flessione dell'RT, l'indice tra positivi e tamponi rallenta di poco, 17 ingressi in rianimazione, dopo Villa Serena crescono i pazienti anche a Camerino, Covid ospital quasi pieno, 10 le vittime. Pochi tamponi, la regione cambia marcia, stretto l'accordo con i laboratori privati, l'obiettivo è aumentare la diagnostica per intercettare il virus prima. Inoltre i campioni di Pesaro e di Fano saranno analizzati a Marche Nord, quindi non dovranno andare ad Ancona come è stato fatto fino adesso. Nuovo ospedale bene per tutti, eppure l'entroterra fa la ola, talk show con l'ex presidente Ceriscioli ed altri esponenti politici e non, tra difesa del project financing, nuovi modelli sanitari e stoccate ad Ancona. Poi Arcuri, che richiama le regioni con i tamponi in esaurimento, aumenteremo la dotazione schiarita dopo, attenzione, schiarita dopo l'allarme, chiesti 675 mila test per arrivare fino a marzo. Dunque c'è la ricerca dei tamponi molecolari, le scorte marchigiane, abbiamo detto anche ieri, basteranno solo alla fine dell'anno, ma nel frattempo il commissario Arcuri ha chiesto a tutte le regioni di inoltrare la richiesta del fabbisogno necessario per coprire un lasso di tempo che arrivi almeno fino a marzo. Poi anche ieri nel nostro telegiornale vi abbiamo fatto vedere la foto di un camper laboratorio per i test. Arruolati tutti i laboratori privati, la regione amplia lo screening, da 18, le strutture autorizzate salgono a 49, si allargano anche gli strumenti di indagine. Intanto i contagi sul lavoro superano quota 1600, l'allarme sicurezza di Barbaresi della CGL. 8 positivi a medicina e altri casi sospetti, anche il titolo del Corriere dell'Arresto del Carlino, su Fano e allarme contagio all'ospedale riguardano sia i sanitari che i pazienti. Ieri sera riunita l'unità di crisi per capire come si sia propagato il virus e quindi trovare le contromisure, la struttura è destinata ai pazienti no Covid, a differenza, come dicevamo appunto, del San Salvatore. Poi saturimetri, 700 domande all'avvio, ma c'è tempo fino al 2 di dicembre. Sono 3.000 gli strumenti che il Comune di Pesaro regalerà agli over 65, ma forse bisognerà scontentare qualcuno. Se si supera l'offerta, si privilegeranno famiglie con disabili o persone in difficoltà. Marche Nord chiede aiuto al Mazzoni per l'attività specialistica di laboratorio. Con il pensionamento del dirigente biologo Valentini, l'azienda non è più in grado di assicurare esami ad alta complessità. La cronaca, molesti alle nipote di appena 10 anni, lo zio acquisito finisce sotto processo, gli abusi sono proseguiti per due anni. Solo tempo dopo la bimba ha di fatto trovato il coraggio di raccontare tutto ai genitori. Le indagini sono state condotte dalla squadra mobile, l'uomo ha già dei precedenti. Il derubato posta le immagini dei ladri, sempre dal Corriere. Se li avete visti, dice lui, aiutatemi a ritrovarli. Furto a casa Fazzi Poche in Viale Trieste. Trieste, e non è la prima volta, due giovani ripresi dalle telecamere, come vedete in questa fotografia in bianco e nero scattata durante la notte, anzi il video ripreso durante la notte. Poi 30 chilometri a piedi prima di essere ritrovato, scomparso dall'ospedale di Muraglia, l'anziano arrivato a Cartoceto. 30 chilometri, sì, avete capito bene, 30 chilometri da Pesero a Ponte Murello di Cartoceto, questo anziano di Sant'Angelo Invado, che aveva fatto perdere le tracce nel primo pomeriggio dell'altro ieri. Poi è stato ritrovato, grazie anche alla segnalazione, come scrive Scatassi sul giornale di questa mattina, è stato riconosciuto, grazie a un servizio trasmesso poco prima dal nostro telegiornale, da Fano TV, una persona ha chiamato un carabiniere che a sua volta ha attivato poi i soccorsi. L'uomo è stato ritrovato intorno alle ore 22. Morto nello scivolo del garage dell'hotel, vicino al corpo trovata anche una siringa, dramma in Viale Trieste a Pesero, l'allarme dato da un operaio che stava lavorando nell'albergo chiuso. Dunque un corpo, un corpo di un uomo riverso a terra, in fondo allo scivolo di un garage di un albergo chiuso, inghiottito dal buio dell'autunno. E' attorno alla desolazione resa ancora più opprimente dal silenzio e dalla solitudine del luogo. Siamo vicino all'hotel Imperial, in via Ninchi, traversa del lungomare Trieste. L'albergo, come abbiamo già detto, è chiuso, è successo alle 17.30, che praticamente è già buio. L'operaio ha chiamato il 113 dicendo c'è un uomo a terra che non si muove. La pattuglia è poi arrivata e ha visto, si tratta di un pesarese di 46 anni, già noto alle forze dell'ordine, uscito dal carcere di Villa Fastigia appena poche ore prima di essere stato ritrovato senza vita con una siringa vicino. Presidi e task force dei carabinieri contro l'immigrazione candestina, sempre a Pesaro, pattugliate le aree più sensibili, scattano identificazioni e denunce. Sono più di 100 le donne abusate, l'ultima violenza è il revenge porn. Non abbiamo il tempo adesso di spiegare che cos'è, anche se in pratica è quando una persona pubblica immagini pornografiche registrate in intimità, magari dopo che è finita una storia, per vendetta. Spesso succede che durante, quando tutto va bene, si fanno questi filmini con i cellulari, questi video e poi magari la storia finisce e per ricatto lui o lei pubblicano o diffondono queste immagini private. Questo è il revenge porn e questo adesso è un crimine e quindi viene punito dalla legge. Il bilancio di quest'anno del centro che tutela le vittime, anche nel nostro territorio ci sono casi, come vedete, di vendetta sessuale. Nel Consiglio Comunale Monotematico la testimonianza della direttrice della struttura. Sotto riceviamo una richiesta di aiuto a settimana di Bari del Cante, gestisce una casa rifugio inaugurata, una panchina rosa. Quello che ho capito dal cancro, dalla pagina di Fano del resto del Carlino, a 37 anni ha vinto la sua battaglia più difficile. La prevenzione per me non esisteva, non fate però come me, dice Alessandra Fulvi Ugolini, 37 anni, commerciante fanese, che appunto è riuscita sì a sconfiggere il suo male, ma ecco la prevenzione, dice lei, è importante. Se ho combattuto così tanto è stato anche grazie al personale del reparto di oncologia di Urbino. Analisi su appuntamento. Ma ci trovo 30 persone. Succede al laboratorio dell'ospedale di Fano. Perché questi assembramenti? Sono incinta e ho paura. L'esperienza di Giorgia, che ha 28 anni, vedete in questa fotografia, e che ha raccontato la sua esperienza al giornale, appunto, al resto del Carlino. Il teatro ora è minacciato, il teatro della fortuna di Fano, è minacciato da infiltrazioni e umidità, stanziati 125 mila euro per lavori di manutenzione da eseguire in 100 giorni, prevista anche la sostituzione delle luci della Sala Verdi e del quadro elettrico del parco. La strada di mezzo, quindi taglio basso, è come un percorso di guerra. Le buche come crateri. Bellucci, dice, pericolosa anche, soprattutto per gli sportivi. Pratiche dell'edilizia solo online. La rivoluzione grazie al lockdown. La via telematica diventa esclusiva dal 1 gennaio per le nuove richieste. Fanesi, il vice sindaco, dice con il Comune, cittadini e imprese, avranno un rapporto trasparente e anche veloce. La destra non vuole affondare del tutto le politiche di Ceriscioli. Il Movimento 5 Stelle, dopo la bocciatura della mozione contro i 50 posti letto, ha la clinica privata. E poi l'assessore Saltamartini, che dichiara meravigliato dal sindaco, l'assessore regionale, è stato esplicito sulle sue intenzioni riguardo all'ospedale Santa Croce di Fano. Quasi un milione, andiamo a Pesaro, per 300 metri di pista ciclabile. Nuovo tratto di collegamento tra Visbara e Torraccia risulta oneroso, ma l'allaccio viene ritenuto fondamentale per completare la bicipolitana. Servizio prelievi sospeso per il Covid, soluzioni possibili, ma niente risposte. Rossi scrive a Saltamartini per Mercatello e Borgo Pace, un'analisi del sangue, qui è un'odissea. Poi, dall'altra pagina di Urbino, questa volta del Carlino, in arrivo uno sportello in difesa delle donne, Mariana Vetri, assessore alle pari opportunità, dice che è fondamentale per la prevenzione. Altro tassello nell'attività di sensibilizzazione, l'obiettivo è dare assistenza, sviluppando un percorso il più possibile accessibile. Intanto, guardate la fotografia della caserma dei carabinieri di Urbino, la caserma si tinge di arancione contro la violenza di genere. Da Valefoglia, biodigestore, scavalcata lata, non c'è un governo politico. Il Forum per i beni comuni segnala la responsabilità per l'assenza di un piano d'ambito. Sotto è ufficiale, da Talacchio, Betlemme Talacchio, quest'anno non si farà. Divertimento sì, ma in sicurezza, siamo ancora a Fano, il confronto con genitori e ragazzi, giornata regionale, in commissione il Cogeu e alcuni coetanei delle vittime di Corinaldo. Poi sotto, aumentate da Fossombrone, la differenziata con il porta a porta, l'osservatorio cittadino sulla raccolta dei rifiuti, e l'educazione civica. A Pergola restano due reparti, di Cenerentola, date più spazi a medicina e riabilitazione, accorata lettera di sindaco, vice all'Asur e al presidente Acquaroli, in ospedale si trovi in fretta una soluzione. Ancora dai giornali, restituiamo posti letto a medicina e riabilitazione, Pergola lettera del sindaco Guidarelli, poi sotto Covid, tra gli operatori chiusa fino al primo dicembre, la scuola dell'infanzia Arcobaleno. Qui siamo a Cartoceto. Dalla giornata di ieri, è chiusa la scuola d'infanzia Arcobaleno a Ponte Murello, a sancire lo stop temporaneo delle attività per tutti i circa 80 bambini dai 3 ai 5 anni, è stato il Dipartimento Igiene dell'Asur, dove è stata accertata la positività al Covid di alcuni operatori e un collaboratore scolastico. Da Senigallia, ecco furbetti del coprifuoco, qualcuno ha detto vado dai miei genitori, delle scuse più disparate per uscire di casa, raccontate alle forze dell'ordine. Qualcuno dice, mamma sta male, quindi devo andare a trovarla, insomma, come si fa a dire di no. Sono usciti poco prima delle 5, non hanno potuto evitare però la multa. Il Premier Conte, ecco la notizia che volevo darvi, la buona notizia che volevo darvi, l'abbiamo detta ieri sul Corriere Adriatico, il Premier Conte dice, lo Stato risarcirà i figli di Marianna Manduca, bisogna essere in grado, dice, di riconoscere i propri errori. Carmelo Calì, il cugino che si è preso in carico i tre figli della donna uccisa dal marito, la donna aveva denunciato, lo ricordiamo per chi non se lo ricordasse, ben 11 volte in caserma, il marito che la picchiava quotidianamente, 11 denunce che non sono servite praticamente a nulla. Conte ha detto, questa donna verrà risarcita, e lo ha detto in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. E questa era l'ultima notizia della nostra rassegna stampa. Allora, velocemente, abbiamo ancora un pochettino di tempo, qualche minuto, prima della messa delle 7.30 in diretta dalla Santa Casa di Loreto. Allora, vediamo di nuovo le prime pagine, ecco, tutte qua. Le prime pagine della nostra rassegna stampa, il Corriere Adriatico di Pesero, l'apertura per le dimissioni accelerate e la partenza di questo percorso che cercherà, tenderà almeno nelle intenzioni di alleggerire un po' gli ospedali. Allora, percorso protetto per i pazienti con pochi sintomi a Marche Nord, nuovi casi positivi all'ospedale però Santa Croce, l'abbiamo visto poco fa, c'è un focolaio all'interno di Medicina. Nelle Marche crescono i ricoveri, più 28, ieri altri 10 morti, mentre Bolognola è l'unico comune Covid-free. A centro pagina, la fotonotizia per la morte di Maradona, anche le Marche piangono Diego, e poi ancora Crona, che ha trovato morto in zona mare davanti a un hotel, posta foto dei ladri, chi può mi aiuti a rintracciarli, poi nipote molestata, finisce a processo lo zio acquisito. Mentre il resto del Carlino, contagi nel reparto di Medicina, sempre scatta l'allarme a Santa Croce di Fano, almeno 8 i casi tra operatori e pazienti, altri sono invece da accertare. A centro pagina, la fotonotizia è per la musica senza confini, bambini che cantano nella lingua dei segni con la compagna sorda. Mentre è stroncato da un overdose, era appena uscito dal carcere, aveva 46 anni, e poi l'accordo con i laboratori privati per effettuare i tamponi molecolari. Si cerca dunque la svolta. Partita la corsa ai saturimetri del Comune di Pesaro, ecco come fare poi sotto lo sport, con la VL a Bologna il 30 dicembre, è la guida Michelin che conferma anche il ristorante pesarese Il Nostrano e gli altri tre ristoranti sparsi nella regione, due sono a Senigallia, una a Marzocca, l'altra a Senigallia e poi l'altro a Loreto, insomma. Però nulla di fatto, nulla di nuovo, sotto il cielo stellato della guida Michelin. Noi ci fermiamo qui, l'informazione torna questa sera, come sempre alle 20.30, con il telegiornale Occhio alla Notizia. Grazie per tutte le vostre segnalazioni, grazie per l'aiuto che date alla nostra redazione con i vostri messaggi, i vostri video, le vostre fotografie, i vostri messaggi di testo che ci indicano e ci danno un po' anche il senso di come vanno le cose intorno a noi. Quindi è importante, continuate a segnalare, continuate a mandare i vostri messaggi. Io mi fermo qui, buona giornata a tutti e arrivederci. Grazie per la visione!